allora vogliamo vogliamo riprovare parlando un po più forte posso alzare la voce? ho questo qua allora possiamo? sì prego dunque dicevo ognuno di noi è per dignità dipende da cosa intende per dignità come la definisci o sotto quale punto di vista lo affronta prima che tu avessi la tua scelta di metterti con la tua moglie questa Elisa non aveva avuto il rapporto con me? Elisa non aveva avuto il rapporto con me? no non esiste completamente il rapporto con te perché tu hai dichiarato che mi hai fatto sempre d'appoggio in sostanza d'appoggio con il rapporto con l'aspetto io non dichiarato che mi hai fatto d'appoggio c'è stato che quando io sono tornato signor Presidente Davide Erbo com'è la ricezione dell'audio nelle sedi collegate? signor Presidente Davide Erbo si sente solamente un test quell'altro non si sente lo stesso da Spoleto scusate signor Presidente anche da Parma la stessa roba anche da Parma si si fate a parlare più forte evitate soprattutto di accavallare le vostre cose io non ho dichiarato che mi facevi d'appoggio scusa un attimo l'hai dichiarato tu che mi facevi come siciliano e qua penso che ci capiscono dal ruffiano questo tu hai dichiarato signor Presidente io scusi Di Maggio non è in questi termini forse è opportuno che io richiami le dichiarazioni di Brusca ma non ho dichiarato questo Brusca ha dichiarato sostanzialmente che lei aveva una relazione extra toniugale con una donna che mi pare di ricordare si chiamasse Elisa scavesci ecco questa ragazza questa signora pare che avesse avuto secondo Brusca un flirt un flirt come si dice con lo stesso Brusca e lei avrebbe continuato per incontrare questa ragazza avrebbe speso il nome di Brusca per agevolare per rendere più possibili gli incontri con questa ragazza spendendo il suo nome cito testualmente dicendo al padre ai familiari a chi che sia che lei per poter uscire avere la copertura venire a trovare me queste sono le sue testuali parole poi vi è stato anche un altro riferimento a questioni relativi a piccoli appalti uso sempre un'espressione di Brusca di cui si sarebbe occupato lei quindi le ragioni del contrasto secondo la versione del Brusca sarebbero da ricollegare con questo comportamento che lei avrebbe adottato e che suscitò la reazione del Brusca il quale ha sempre sul punto detto che si era guardato il bene dall'accusare dal denunciare questo suo comportamento che violava un po' le regole di Cosa Nostra a Salvatore Rina ma che sostanzialmente l'avete chiarita personalmente e avrebbe detto o la finisci o te la faccio finire queste sono le parole del Brusca lei ha detto che non era lei che andava ad informare eventualmente i vertici dell'organizzazione ma erano eventualmente altre persone perché la voce cominciava a circolare e quindi era stata risaputa questa è in sintesi la ragione che ha prospettato il Brusca mentre lei sostiene che vi erano state delle piccole delle invidie delle gelosie e che all'esterno la giustificazione ufficiale era quella secondo la quale si sarebbe impossessato di denaro della famiglia di miliardi proveniente dall'apparti ma sostanzialmente la vera ragione secondo il Brusca sarebbe da ricercare in quello che le ho detto lei aveva da aggiungere qualcosa sul punto sul punto siccome lui dice di no io gli posso portare altre prove testimoniali documentali dove si parla di questo rapporto mio con la Scalici ma non che io gli facevo da Ruffiano lui aveva la sua scelta la sua vita l'ha continuato con scelta sua io andavo a punto siccome il Scalici suocero che mi puoi dire che non è un po' chiacchierona si andava in giro dicendo che io ero il fidanzato di sua figlia questo non è vero questi sono discorsi che io non scendo ma io ma io scusate io non posso scendere ai discorsi che fai tu Presidente Davito Erbo e mi deve scusare scusate un attimo proviamo a sostituire questo microfono certo che oggi la giornata si prospetta scusate signor Presidente da Parma di maggio non si sente si stiamo cercando di sostituire il microfono è meglio che le cose ok grazie possiamo proviamo e allora l'unica cosa che ti riempievo a livello personale che poi erano dei motivi per quanto riguarda cosa nostra che tutti lo sappiamo che tu avevi questo rapporto estaconogale e ti dicevo finiscila ma per un fatto di cosa nostra quindi lo sappiamo tutti che avete detto questo rapporto con tu solo lo sapete io solo allora signor Presidente sul punto siccome io sono io come lui e come tanti altri a processo grigente per il 61 avendomi comunicato molti motivi di appelli tra i quali c'è un motivo d'appello di mio cugino Brusca Calogero so che oggi è pure collaborante di giustizia che dichiara quasi le mie stesse cose anche se in maniera diversa e a te simone addirittura c'è il padre sul punto posso chiamare a citare Figarotta Cirogino che io nel 1982 mi trovavo in America e quando io le ho dato la possibilità signor Di Maggio di avere questo rapporto con la sua attuale moglie mi hanno telefonato in America per Natale dicendomi che tutto era andato a posto ma voglio scendere nei particolari voglio chiamare Scamato Salvatore voglio chiamare Luigi Luigi Saputo quello che mi ha detto che il suocero andava in giro dicendo che io ero il fidanzatore della figlia a me non mi stava bene voglio chiamare dove Giuseppe d'Accorso comodano la famiglia di Piane dell'Abanesi dicendo che io andavo in giro a dire che io ero il figlio del fidanzato di sua figlia a quel punto io quando citavo questi voci io avevo un rapporto con Silvana Badalamenti o monimo del Badalamenti e poi gli ho detto Baldo fammi la cortesia io ti dico di finirla se tu vuoi controllare continua però a me non mi mettere più in mezzo perché lei per uscire di casa diceva che veniva a trovare me e questo è uno dei motivi ora posso elencare ancora altre persone ma tu puoi elencare tutte le persone tu puoi elencare tutte le persone che vuoi io ti ho detto come dignità d'uomo non scendo a certe bassezze e tu lo sai e non tocco argomenti ma io non sto dicendo io voglio non tocco argomenti abbiamo sempre gli stessi non si sente la voce dell'altro collaboratore dite la voce di Di Maggio o quella di Brusca Di Maggio quello di Di Maggio vogliamo provare con questo se possiamo no Signor Di Maggio lei riesce a parlare più forte può tenerlo in mano il microfono se le viene più facile no perché si sta c'è il braccio che va bene se parlo un po' più forte a me mi dispiace parlare più forte perché di solito parlo e lo so ma solo che non sentono qui e allora stavo dicendo principalmente come dignità d'uomo e penso come uomo diciamo come figura ti ostima ti ostima perché ho un buon ricordo da ragazzo e due confronti ma quello che hai all'interno la tua stortezza quella no non la stimo perché non la stimo perché tu non sentiamo l'audio per niente del testo signor Presidente anche da Parma la stessa cosa che che mi Grazie. Signora, diamo atto che l'udienza riprenda le 11.20. Allora, ritornando al discorso relativo alla genesi dei vostri dissidi, se vogliamo riprendere il discorso, non so, credo che stava parlando lei, signor Di Maggio. Sì, il discorso... Il discorso principalmente è questo, che lui deve venire ai discorsi più concreti. Lui non può scendere a queste bassezze, perché io non voglio scendere alle bassezze tue, perché queste sono bassezze e tu vuoi cercare un appiglio in questi discorsi. E allora, il discorso principalmente è, quando tuo padre e la volontà di Rina mi hanno dato il mandamento in mano, dopo il tuo rientro da Linosa, dal confine, e tuo padre era agli arresti domiciliari, siete andati da Rina a lamentarvi che io non mi facevo sapere più notizie del mandamento e della famiglia. E io sono stato chiamato da Rina dicendo, vacci a trovare il mio compare, digli qualcosa della famiglia di San Giuseppiato, tranne le cose fuori mandamento, perché in quel periodo, subito dopo, sei venuto tu e mi hai detto, da questo momento in poi, il paese, il mandamento è nelle mani di mio padre. Però, per quanto riguarda fuori, ne risponde tu, Corrina. Questi sono i discorsi principali, principalmente perché sei andato dagli impresari a chiederle, se io gli forzavo da fargli uscire soldi, forzandoli. Siete andati a domandare a Rizzo se io gli ho obbligato a farmi montare l'aria condizionata sulla jeep. Ora i discorsi sono questi quelli con questi. Non scendere a queste cose, non mi fare scendere a altre cose che non voglio, non è giusto. Scendere a certi discorsi. Finito? Beh, ho finito. Fino a qua, a questo momento. Signor Presidente, io credo di non scendere a nessuna bastezza, ci sto raccontando fatti. Mi dispiace che tu non accetti, io gli sto dicendo chissà quale fatto strano. Gli sto dicendo che adoperava, il tuo socio raccontava questi fatti in giro. So, io gli sto dicendo chissà che cosa. Puoi prendere qualsiasi tipo di argomento perché non mi fa né caldo e né freddo. E lo so. Due. Dimmi una cosa, una volta incidentalmente, aspetta. Sei andato a ritirare una macchina con Rizzo da Angelo Sino all'Autoteam? Un FAT1? Io no. Signor Presidente, possiamo continuare di qua domani mattina, di maggio come al solito, per confermare una cosa, deve accettare il fatto. E' successo, vediamo se ti riesci a ricordare. Un giorno sei andato a ritirare una FIAT1 con Rizzo Giuseppe, che ha comprato all'Autoteam. Assieme a te c'era la bambina, la figlia. E incidentalmente ti sei incontrato con Salvatore Rina e il biondino Salvatore. E' vero questo o no? Non esiste. Signor Presidente, a un punto Salvatore Rina mi dice, digli a tuo compagno che la finisce. Io mi incontro con lui, c'è il bambino, ma che è successo? E lui mi dice, ma guarda che siamo andati a ritirare questa macchina, una FIAT1, e dice, accanto a me c'era la figlia di Rizzo. Dopodiché mi incontro con Salvatore Rina, guardi che non era la donna che è l'attuale sua moglie, perché le caratteristiche a distanza possono essere simili, ma bensì che era la figlia di Rizzo, che si è andata a ritirare quella macchina, e la bambina, essendo una macchina nuova, si è voluta mettere accanto a lui. C'è qualcosa di strano in questo? Ma se lo dici tu, a me non mi risulta. Vedete se il Rizzo Giuseppe avrebbe una FIAT1, se il 1989-90 ha comprato questa macchina, che dobbiamo essere a questa data quando già io avevo preso il suo posto di Rizzo Giuseppe, o non so se è interessato alla società, che dove dovrebbe essere come ditto o come persona. Come ditto o come persona, comunque si tratta di una FIAT1 che sono andato a ritirare all'autoteam di Angelo Sino. Ma scusa, il rapporto con Angelo Sino non ce l'avete tu? Ma io sto dicendo che è un rapporto, qua sto dicendo che sei andato a comprare... Ma scusami un attimo, scusa. Signor Presidente, ma perché dice una cosa come un'altra? Sì. Il rapporto ce l'avevi tu, direttamente con Angelo Sino, da vendere e non svendere le macchine. Ma a me era una competenza mia. Ma che c'entra qua di svendere e non vendere? Mi deve scusare. E allora, cerca i punti più giustificati. I punti più giustificati quali sono? Tu a me mi coinvolgi in questo processo, nella strage di Ginnice. Come mi coinvolgi in questa storia? Questo è il punto. Vi avevo sollecitato a reciproche contestazioni, innanzitutto andando per gradi, con specifico riferimento alle ragioni dei vostri contrasti. Quindi lei sostanzialmente continua a negare che vi siano delle ragioni di carattere strettamente personale, cioè il fatto che lei spendesse il nome di Brusca per agevolare o favorire gli incontri con questo? No, no, completamente. Il discorso principale, mi devo scusare, signor Presidente, è, siccome da generazione vivono di invidia, è in quel periodo che io reggevo il mandamento e non dando più soddisfazione alla famiglia Brusca, perché la famiglia Brusca aveva un simbolo a San Giuseppe Ato, e allora questa cosa gli è fatto troppo male, al punto di andare a lamentare Corrina. E là sono iniziati i risguiti, mettendo la mia moglie attuale della famiglia. No, non è giusto, perché nella famiglia hanno detto pure, da Giovanni Genovese e da Mariuccio Brusca, hanno detto, ma perché lui così ce le fa sapere da solo? Perché non riunisci una famiglia e vediamo Barduccio come si è fregato i soldi? Questo hanno detto. Signor Presidente, io ho accusato di maggio in questa aula che si aveva preso soldi? Ma io ti sto dicendo i motivi quali sono. Il nostro contrasto, dove è nato? Signor Presidente, io ho detto che di maggio si è rubato soldi? Io non ho accusato mai di maggio, se poi le altre notizie, giusto, sbagliato, distorte, questa non è... Volevo chiederle un'altra cosa, signor Di Maggio, ma queste lamentele della famiglia Brusca relativa al fatto che lei non riferiva le vicende del mandamento, erano fondate o no? Sì, sì. Perché Rina a me mi ha chiamato su questo discorso dicendo che quando una persona ha i contatti diretti con Rina ho delle cose che sono per dire personale, nel senso di dire una confidenza personale e non si può mettere a dirla a chiunque o a riferirla a chiunque. Se io ho un impegno, se io ho un impegno che Rina mi dà un incarico, non mi posso andare né da lui né da suo padre a dire questo c'è o quello che non c'è. Poi ne rispondo io domani. Ma voglio dire, durante l'arreggenza del mandamento, lei effettivamente assunse nei confronti di Brusca durante la situazione di arresti domiciliari, assunse questo atteggiamento di non metterlo al corrente delle vicende che riguardavano il mandamento? Cioè erano fondate queste lamentere di cui lei ci sta parlando? Sì, perché mica io ci potevo andare tutti i giorni da suo padre. Una volta che era resa domiciliare ci andavo una volta ogni tanto. E a livello del discorso del mandamento io le facevo sapere. Però quella era una scusa. Quella era una scusa bella e buona perché? Perché tutte le gente fuori il mandamento mi venivano a trovare, venivano a trovare a Balduccio. Quando ti fermavano la gente come il suo settimo di Monreale o altre persone e ti dicevano Balduccio dov'è, che dovevano parlare con me. A te il muso ti diventava tanto perché vivete di invidia nella vostra razza. Questo è il punto. Vabbè, se questo vi avevo in invidia o non è in invidia, è un fatto processuale come quando non interessa il nostro signor Presidente. Quando riguarda le accuse che di maggio, quella che a me mi risulta non è stato mai additato che lui si rubava soldi. Uno. Però un fatto è certo che lui, c'è stato un periodo che faceva da reggente e faceva da passo, che passassi mettere soldi in mano a lui nella maniera più categorica. e c'è stato a manco di 10-20 milioni che non sono arrivati alla famiglia di Trapani. Angelo Sino, avendo avuto contatto con Marcio Ciccio, dice ma io li ho consegnati, i soldi li aveva lui. E questi soldi si sono persi per sale, sono arrivati, questo non lo so. No, scusa, non è così la storia. La storia è che Modesto stava facendo un lavoro a Ogaggio. Non sentite nulla o non sentite uno dei due collaboratori? No, non si sente niente. Adesso solo la sua voce. Vogliamo riprovare o no? Vogliamo riprovare? Dunque, possiamo riprendere. E allora, il discorso che stanno facendo questo lavoro è l'impresa Modesto a Gaggio, nella zona nostra, diciamo, nella zona della famiglia di San Giperrello. E ha fatto questi lavori, un giorno passa Modesto, mi lascia 20 milioni, subito dopo arriva lui, aveva bisogno di soldi perché aveva impegni con l'impianto dell'Alevo Micchia, se doveva pagare alcune tratte. e allora, non da mano mia, siccome questi soldi io li avevo lasciati dentro l'ufficietto e glielo avevo dato a Vincenzo Arato, e gli ho detto, fammi la gentilezza, dagli questi soldi a Giovanni. Li è andato a prendere lui, te le sei prese e te le sei messe qua. E ha alzato la maglietta e te le sei messe qua sotto. E là è nato il discorso, che tuo padre mi ha mandato a chiamare i 20 milioni, i 20 milioni gli ho detto, l'ho prestato a Giovanni i 20 milioni, e ce l'ha lui, che mi ha detto che poi me le fa avere. Però ce l'ha lui i 20 milioni. Non contento, tuo padre mi ha detto, i 20 milioni tu ne sei responsabile e tu li esci, va bene. E io avevo preso i 20 milioni, per dargli a tuo fratello Emanuele. Tuo fratello Emanuele mi ha detto, per il momento, non me li dare, che provvede mio padre. Poi se ne parla questa storia. Questo è stato il discorso dei 20 milioni. Questo che hai raccontato è un altro, però mi fa piacere che hai raccontato questo particolare, perché provvede a questa corte, domandando su Modesto se lo conoscevi o se non lo conoscevi, si, hai dichiarato che lo conoscevi così, ogni tanto mi veniva a trovare, ma quanto pare il rapporto è più intenso di quello che hai dichiarato. Questi erano i rapporti con Modesto. I rapporti con Modesto, però già c'è un passo più avanti di quello che tu hai dichiarato. No, sempre questo ho dichiarato io. Io non ho detto che con Modesto andavo a fare sai che cosa. Signor Presidente. Con Modesto il rapporto passava di là, dell'officina, per quello che ho dichiarato sempre io, passava dell'officina, o per il lavoro. E ho detto pure, e ho dichiarato pure, che con Modesto c'erano i lavori di alto e medio bellice, che Modesto ne era pure... Gestiva con Giovanni Grisaffa. Gestiva con Giovanni Grisaffa questi lavori. E tu lo sapevi? L'ho dichiarato. Come lo sapevi? E Giovanni Grisaffa all'officina non ci è venuto mai all'officina tua. Giovanni Grisaffa all'officina tua non ci è venuto mai. Perciò? E perché è dichiarato in questa aula no? Davanti a questa aula è dichiarato? Ma dove? A chi l'ho dichiarato? In questa corte. Ma quando? E quando sei stato chiamato a deporre su questo punto? No, no. Signor Presidente, c'è un verbale che io ho riletto, e Dimaggio Baldassare ha dichiarato che lui all'officina non ha mai visto Giovanni Grisaffa. Per me non mi risulta. Per me è una cosa nuova. Sarei stato un lapsus. Comunque, ascoltami. Io vorrei, parlando di dignità o parlando di questo o parlando di quell'altro, vorrei che tu farsi uno sforzo di memoria, che poi alla fine, ogni volta che ti vengono contestate cose mie, poi alla fine o per vari motivi sei costretto ad ammettere. Ora io, per evitare polemiche, evitare scontri, tramette, tirare in ballo e altre cose. Cioè cerca di ricordarti. Aspetta, cerca di ricordarti. Se io non ho motivo di tirarti in ballo in questo problema. Ah, fermati. Dimmi una cosa, noi abbiamo fatto un quadruplicio omicidio. Ti ricordi quello di Saro Riccobono? Saro Riccobono, mi capisci. Sei stato tu a dichiarlo, giusto? Sì, sì. Ti ricordi io quel giorno cosa ho fatto? Quel giorno io cosa ho fatto? Quel giorno che l'hai fatto? Eh, non lo so, ero là presente. Ti ricordi, l'hai dichiarato, quindi lo posso dire. Io sono andato a telefonare. Mi sembra di sì. L'hai dichiarato tu e poi l'ho confermato. Sì, mi sembra di sì. Sono andato a telefonare ad Antonino Madonia da Gammicchia affinché lui poi commettesse altri omicidi a Palermo. Cioè lui e tutta la sua squadra. Ti ricordi o no? Aspetta, ma tu a me mi hai detto il motivo perché dovevi andare a telefonare? No, non te lo dico. Ma infatti c'è di... Però l'hai dichiarato questo particolare che sono andato a telefonare? Sì. Quindi, alla fine, a forza di dalla cadala, poi tu sei costretto ad ammettere i fatti. Dipende. Sei costretto in che cosa? Mica posso dire tutto quello che dici tu? Sì, Presidente, io sul punto del primo contrasto posso continuare a dichiarare altri fatti, però se non se lo ricordo o non lo vuole accettare questo non posso fare altro. Per un'altra cosa, signor Brusca, lei sempre con riferimento alla data in cui si era verificata questa rottura definitiva, rispondendo ad una specifica domanda del Pubblico Ministero, foglio 34 della trascrizione del verbale del primo marzo 99, ha fatto anche riferimento, ma vorrei che lei mi esplicitasse meglio il suo pensiero perché non è molto chiaro, lei ha fatto anche riferimento al periodo in cui suo padre aveva gli arresti domiciliari e ha parlato del fatto che il di maggio pare che si interessasse di piccoli appalti. Lei ha usato un'espressione un po' poco chiara, cosa che a San Giuseppe Iato noi non eravamo mai interessati, cioè roba di artigiani. La scoletta, non sente l'audio. Neanche la mia voce, sentite? Sì, adesso sì. Quindi, le dicevo, lei ha fatto riferimento a questi piccoli appalti e al fatto che si trattava di roba di artigiani, che voi non eravate interessati perché lasciavamo spazio sempre un po' a tutti. Il discorso poi è rimasto così non molto sviluppato. Poi lei ha parlato di vicende che riguardano i rimi di Alcomo, poi su questo ci torneremo. Innanzitutto, se mi puoi esplicitare meglio questo discorso dei piccoli appalti che è da correlare alle ragioni del vostro contrasto e poi sentiremo sul punto anche Di Maggio cosa ha da dire. Allora, io non ho mai accusato Di Maggio che si prendeva soldi o estorseva soldi per questi lavori. Io ho dichiarato che in quel momento Di Maggio si interessava per favorire, non favorire che dettava, tra virgolette, legge che ci andavano molte persone di San Giuseppe Iato a chiedergli una cortesia per dire questo lavoro me lo prendo io, quest'altro me lo prendo io, come se lo dirigevo un po' quei lavori che a San Giuseppe Iato c'erano. Questi fatti prima non erano mai successi, questo fatto lo mettevano in cattiva luce all'opinione pubblica, c'era in bocca di tutti e di tutto. E si ci diceva finisci, allontana questo tipo di persone e siccome molte persone ci andavano, lui pur di accontentarli o perché gli portavano la cassetta di pesce o perché gli facevano qualche altra cosa, cioè continuavo questa attività. Questi fatti arrivavano a mio padre in maniera distorta. Te ricordi che accusavo il mio cugino Bruscavito e gli dico, sai che cosa gli vanno a raccontare? È vero o no? No, no. Vabbè, signor Presidente, cosa può? Il genere di appalti si trattava? Appalti di 70, 80 milioni, 100 milioni. Appalti pubblici? Appalti pubblici a livello comunale. Del comune? Del comune di San Giuseppe Iato. Non è che lui prendeva il pizzo, imponeva... Non sarebbe mai mescato. Mio padre, siccome quando lui gestiva il paese questi fatti, non li ha mai tenuti in considerazione. Quindi gli arrivavano queste notizie all'orecchio e mi dice, c'è tuo compadre che la finisce. Pure mio padre che mi dice, tuo compadre si sta facendo la villa grande a Ginestra, si sta facendo di qua, si sta facendo di là. E io sempre, a giustificarlo, e lui lo sa benissimo, a giustificarlo dicendo che guarda, si sta facendo una villa con l'aiuto un po' di tutti. L'aiuto di tutti, non si sta spendendo né miliardi, né questo né quell'altro. Il cemento l'hai pagato di maggio? No. L'hai pagato? No. Oh. Aiuti di mezzi meccanici di Rizzo, del tuo socio attuale, te ne hanno dato aiuto? Sì, abbastanza. Hai speso miliardi? No. Signor Presidente, io oggi... L'ho preso l'altro a Spoletto? Sì, mi dica. Non sente. Adesso è ritornato l'audio, lo sento benissimo. Lei cos'ha da dire in ordine a questo riferimento che il brusco... Volevo completare, signor Presidente. Volevo completare. Cioè io, agli occhi di mio padre, per le accuse che gli dicevano, non i giovani genovesi, tutti questi, i giovani genovesi, Mariuscio Brusca, Vito Brusca, tutti questi, lo accusavano. E io sempre, a giustificarlo, e io sono entrato in contrasto con mio padre. Perché io sapevo la realtà di Ginestra e quindi non avevo bisogno di nessuno. Però se una volta mio padre, che era il capomandamento, anche se aveva deliberato lui come reggente, era sempre il capomandamento, perché nessuno gli può togliere la delega, mi dice tu devi fare questo e devi fare quest'altro. Ho andato a punto, signor Presidente, quando io sono andato in officina a dirgli, senti, da questo momento è un po' il mandamento del paese di San Giuseppe Eato, e ci sono andato contro la volontà mia, però ci sono andato, l'ho dovuto fare perché sono stato incaricato di farlo. Ti ricordi quando mio padre voleva uccidere a Baio Rosario? Che cosa ha fatto? Cioè io ero d'accordo o no? Non tanto. Perché volevi che si sposava prima Senella, la figlia. Dici, dopo che si sposa la figlia, l'ammazziamo. Questo hai detto tu. Se era d'accordo o no? Ah, in quel momento no perché si doveva sposare la figlia. Perfetto. E come si ha detto mio padre? Ah? Per cosa ha detto? O ci vai tu o ci vai io. Oh, cioè signor Presidente, queste reazioni mio padre le aveva, nel senso che se non si faceva una cosa, cioè non si faceva ragionare, allora a quel punto io, pur può prendere come vuole, dice che mi astima, signor Presidente, al contrario di quanto lui pensa, e che gliel'ho detto, non so se lo pensa, io lo difendevo perché il cemento non l'aveva pagato, aveva aiuto un po' a dirci, sì, faceva qualche cosa perché non è che tutto lì regalavo, lui metteva la pistola al petto alle persone, gli davano aiuto e quindi lui non ne ha approfitto se lo prendeva. Questi aiuti venivano sia dagli appalti, sia da questi piccoli comportamenti che a mio padre gli arrivavano in maniera distorta, cioè esagerata, e io cercavo di mettere sempre acqua sul fuoco, a un altro punto sono stato costretto a comportarmi, come ha detto lui, sono andato in officina, da questo momento in poi il mandamento finisce. Di personale io con lui c'era, con il fatto della donna, c'è il suo comportamento con Nugale, lo sapevano tutti, non lo sapevo solo io, come ha detto che lo sapevano tutti, a mio padre gli andavano a raccontare i fatti, e io più di una volta gli ho detto finiscilo. Poi me lo sono preso a caso personale quando è uscito fuori che il suoce andava in giro dicendo che sua figlia per uscire di casa, per uscire di casa diceva che veniva a trovare a me, fino a che la saposa io e lui, o qualche altro, la cosa era chiusa, però fino ad accorso uomo d'onore, lui di saputo, di segno si è pagato, cioè mi cominciano a dire guarda c'è questa situazione, io ho affrontato prima lui, e poi ho affrontato direttamente questo, la cosa finì, e questo era un fatto personale, cioè tra me e lui però che non procuradeva niente di cosa nostra, il fatto di cosa nostra è che lui aveva questo rapporto estaco-nugale per il regolo di cosa nostra non esisteva, e io più di una volta gli ho detto finisci, consiglio che lui non mi dava allora, cioè non mi ascoltava allora, quindi questa è la situazione che io ho dichiarato sempre. Tornando a questo discorso dei piccoli appalti, lei cosa ha da dire al riguardo, costituì effettivamente un motivo di contrasto, di rottura? Il motivo di rottura non è vero e proprio questo, perché il discorso dei appalti piccoli erano libere, infatti suo padre diceva sotto i 100 milioni, noi non cerchiamo niente, non chiediamo pizza a nessuno, perciò sono lavori che possono andare liberi, che se li gestiscono pure gli artigiani, e se li gestivano loro, ma non che io gli dicevo scusami un attimo, tu fai questo, tu fai quello, scusami un attimo, sei venuto tu, sei venuto tu e c'era un artigiano di questi, che si doveva fare un lavoro, che in questo momento non mi ricordo come si chiama, se era il cognato di Di Piazza, mi sembra che era, che si doveva fare questo lavoro, ci sei andato tu e gli hai imposto di lasciare il lavoro perché lo dovevi dare fare un'altra impresa, e quello è venuto da me, e mi è venuto a dire, ma è giusto che questo lavoro dovevo fare io, e ci è venuto Giovanni e mi ha imposto di farlo fare un'altra impresa. Io non so chi è questo Di Piazza, in questo momento non mi ricordo, non perché lo voglio negare, non me lo ricordo. Il cognato di Di Piazza, io come cognome in questo momento non mi ricordo come si chiama. Non lo scudo che sia successo, però aspetta. Comunque scusi, lei gestiva effettivamente in qualche modo questi piccoli appalti, aveva delle cointeressenze, dell'interesse? Non mi interessava completamente. Il Presidente non era l'interesse suo e di personale, scudiamo, nella maniera più categorica, erano che tutte le persone, essendo che si era sparse questa voce che a lui dirigeva questo e non dirigeva, ci metteva il buono tu fai questo, tu fai questo. Gestiva in qualche modo. Più che altro cercava di dire, essendo che in un paese tu la voce si passava, possiamo chiamare Monticciolo Giuseppe, ormai quello è morto. Scusami un attimo, Monticciolo Giuseppe io non lo conosco, non l'ho mai visto e l'ho visto mezzavolta passare così e non so chi è. E' venuto pure all'officina tua. Non lo so, mi deve scusare, non lo so chi è. Vabbè, signor Presidente, lo potete citare, il collaboratore di giustizia lo potete citare, ma se c'era un via luce, finiscila, e pure io, perché non è che solo per te, si era creato un'atmosfera, c'è un via vai dell'officina, siccome all'officina venivano persone fuori, c'è qua, succede un manicomio, c'era un momento in cui l'officina era piena. Valdone, hai chiesto che tu ti prendevi i soldi o avevi interessi personali? Mai ho detto questo. Io, interesse personale e interesse a livello di questi appartamenti... Le mani non ti veniva a rompere l'anima continuamente? Chi? Le mani. Le mani? Per che cosa? Per lavori. Per lavori. Piccoli, grandi, piccoli, grandi, quasi qualunque. No, no, mi ha rotto l'anima per lavori di... come si chiama quel paese? Baldo, te li rompiava per... E io ho fatto prendere un lavoro a Saleme, mi deve scusare. Io l'hai fatto prendere? Sì. Signor Presidente, per un lavoro grosso. Quindi piano piano comincia a... No, no, piano piano, ma stiamo parlando noi di appalti comunali, stiamo parlando... Lì erano lavori di provincia, perché lui poteva prendere appalti di 4 milioni, 5 miliardi. Sì, ma è interessato pure a lavori piccoli, Baldo. Per suo figlio, non lui direttamente, per suo figlio, che si doveva costruire... Poteva aumentare la categoria, poteva aumentare il lavoro di importi, i certificati... Scusami un attimo, in paese tu sai benissimo che ci conosciamo tutti. E infatti... Venivano tutti pure perché gli faceva male la testa, e a me non mi interessava, e tu lo sai che non mi interessava. Questo non ciò poi di male, però che venivano per i lavoretti che ti venivano a chiedere per far ritirare a Caio, a Sembrone, e ti ho detto finisci, la smetta di dirlo, non mi interessa. Mi deve scusare, tu gli devi dire qua al Presidente il vero motivo perché tu ce l'hai con me. Ecco, dillo. No, tu lo devi dire. Io, siccome io ce l'ho a dignità, non te lo dico, ma siccome tu non ce l'hai a dignità, diglielo. Senti qua, ti ho detto poco fa, ognuno di noi ha a dignità, non so a quale tipo di dignità tu riferisci. Quindi ti prego, se hai problemi da dire, dirle. Io ti sto dicendo i motivi di rottura. Io ho altri fatti di carattere, non so tu a cosa alludi, o sai che hai qualche problema. Io sto dicendo il motivo per cui sono venuto in officina a dirti da questo momento in poi, non sei più il reggente del mandamento di San Giuseppiato. Le lacune, le lamentere che arrivavano a mio padre erano queste. C'era questo fatto della villa in Conciata Ginessa, che tutti dicevano che lui sta spendendo a destra e a sinistra, e io dicevo guardi che non è vero, e io ti giustificavo contro la volontà, ed ero messo pure in difficoltà io. A quel punto gli ho detto guardi che lui il cemento non l'ha pagato. Sì, poi, anzi, non è che tutto, in parte se l'ho comprata, se l'ho andata a comprare, gli si forneva pure gli inerti, che poi c'erano piccoli nella paletta, ma il grosso non l'ha pagato. I sbancamenti li rifacevano, in parte le rifettosine, in parte gli affattori mani, in parte gli affattori rizzo, i sbancamenti per questo loco, che è cominciato che doveva fare una casetta e poi si è allargato più di tanto. Guarda, il fatto che in questi giorni è venuto su giornali, io già l'ho dichiarato in molti anni prima, che tuo socio Scalici andava parlando a destra di questa villa megagalattica, e io a mettere sempre acqua sul fuoco, e questo era il fatto. E allora qualcuno diceva che Di Maggio si stava prendendo un miliardo di soldi, è vero? Non è vero, non l'ho mai detto, l'ho sempre giustificato dietro le quinte. Ci sono stati dei piccoli episodi in un momento di difficoltà. che ognuno di noi abbiamo nella vita, è che sono venuti fuori. E l'unico caso che io mi ricordo, a parte questo di Modesto, che Sino dice che aveva dato soldi a lui, questi soldi doveva andare a Trapa, e le Trapa non ci sono arrivate. E con Sino abbiamo sistemato il caso. Non so se Sino se lo ricordo meno, che quello di Modesto è un altro caso. Io di quello mi ricordo, di quel caso là. Un'altra cosa volevo chiedere, signor Brusca. Lei poi, con riferimento a questa definitiva rottura, ha usato l'espressione, siccome io non ho mai forzato nessuno, lo mollai. Lei ha parlato anche del fatto che il Di Maggio non la seguisse, non fosse disposto a seguirla per quelle vicende che voi gestivate ad Alcamo nel periodo della guerra dei Rimi. Mi chiarisca meglio questo concetto, quando lei dice, quando io lo invitavo a venire con me, veniva senza problema, lo dovevo invitare e ce lo dovevo quasi forzare. Siccome non ho mai forzato nessuno, lo mollai. Signor Presidente, e poi scusi, desidero sapere se lei riferì al Di Maggio la frase che le disse suo padre, ci dici che si continua a fare il meccanico. E questo poco fa il fatto, quando io gli dico di continuarsi a fare il meccanico, lui di mestiere faceva il meccanico. Lei usò questa espressione, fu l'atore di questo messaggio? Continua a fare il meccanico, il lavoro, non sei più reggente, non sei fuori famiglia, continua a fare il meccanico, non ti interessare più fatti dal mandamento. Da questo momento in poi sei soldato semplice come tutti gli altri. La questione di Alcamo? La questione di Alcamo fu, siccome io prima di essere uomo d'onore e poi successivamente dopo con lui non avevo nessun tipo di problema, andavamo sempre di comune a corto. E avevo problemi con te fino a quando c'è stato questo momento di rottura? No, completamente. Ci dividevamo la qualunque? Sì, sì. Nel bene e nel male? Cioè, qualsiasi era il problema? No, no, non esisteva niente. A un dato punto, siccome io conoscevo lui, che quando si doveva commettere un fatto, cioè non dico che mi anticipavo, ma abbassava che c'era un problema, a un dato punto lui subito si rendeva disponibile e quindi partivamo. Quindi quando poi c'è stata questa rottura e c'erano così dovevo continuare a dare una mano d'aiuto agli Alcamesi e quando lo andavo a cercare, vedevo che non lo faceva più come una volta, cioè dovevo forzare, dicevano molti impegni o lo dovevo andare a cercare quando prima non lo cercavo mai, a quel punto capì che non era più di grandimento, io non forzavo mai nessuno, quindi lo mollai sotto questo motivo di sennò che lo mollai per dire vai a quel paese, cioè non lo cercavi più perché vedevo queste rimostranze negativi che prima non aveva. Mi deve scusare, ma si sta parlando di cosa nostra e parlando di cosa nostra e tu a me mi dici di andare a commettere qualsiasi cosa e io mi rifiuto, ma io, ma dove mi vengo a trovare? Ma perché? Io ti ho detto che non ti hai cercato di essere rifiutato, io ho visto il tuo... E allora dove stava il problema? Siccome io ho capito dopo cosa significava essere uomo d'onore, e l'ho capito bene, e significava rifiutarsi a pelle, e tu lo sai, e allora a quel punto non mi potevo rifiutare nessuna cosa e quando tu a me mi cercavi io ero sempre disponibile. Ma perché, scusate, signor Presidente, ma io ho detto che io l'ho chiesto, signor Presidente, io ho detto che l'ho invitato e lui mi ha detto no, io ho visto un comportamento secondo le mie... E scusate, siccome io avevo scelto non ti hai cercato più, ma io ho detto che tu ti sei mai rifiutato, ho visto il comportamento un po'... È stata una volontà vostra allora, non una volontà mia, e il discorso è questo, io gli ho sentito dire al Presidente... Sostiene che lei aveva delle remore in sostanza, che aveva delle... non lo seguiva con la stessa disponibilità di prima. Sì, signor Presidente, l'ho capito e io gli ho risposto giusto, nelle regole di Cosa Nostra, gli ho risposto troppo giusto. E un ordine era legge, là. Punta e basta. Si doveva fare. Allora, io vorrei chiudere, almeno per il momento, per quanto mi riguarda questo capitolo dei vostri contrasti, poi non so se i difensori o il pubblico ministero vorranno tornarci sopra. Venendo poi più specificatamente alla fase, al processo che ci riguarda, e in particolare alla fase preparatoria, il primo punto di contrasto che abbiamo rilevato nelle vostre dichiarazioni riguarda la questione del vetro blindato, perché il signor Brusca ha sostenuto che lei, il signor Di Maggio, si sarebbe assunto l'incarico di costruire un telaio per un vetro blindato, per coggiarlo a terra, che era stato procurato da Madonia Antonino a Napoli, e furono effettuate delle prove di sfondamento, con un Kalashnikov, in una cava, presenti il Brusca, il Di Maggio e Madonia Antonino. Si trattava di una cava intestata al padre del Di Maggio. Lei, invece, signor Di Maggio, dopo un'iniziale negazione di questa circostanza, probabilmente dovuto a cattivo ricordo, a contestazione, a sollecitazione del pubblico ministero, ha poi ammesso questo episodio. Però vi è un contrasto, nel senso che lei ha ricordato, ha riferito soltanto una prova di sparo incontrata da Musi, che, secondo Brusca, invece è un episodio successivo, è una seconda prova, mentre lei non ha fatto alcun genno, anzi ha negato, di avere in qualche modo partecipato a questa prova di sfondamento che si sarebbe verificata precedentemente, forse il giorno prima, in una cava. desideravo sapere se sul punto avete da muovervi delle contestazioni. Il discorso è questo, che lui, e ti deve ricordare bene, in contata da Musi, hai provato un fucile di precisione col corno occhiale, in questo vetro blindato, che mai hai fatto fare, con un cavalletto appoggiato, Ma scusi un attimo, signor Di Maggio, l'episodio sul quale io contavo di tornare, allora si riferisce a questo, a questa prova di sparo. Lei ha parlato di un fucile 308, e di una prova di sparo in occasione della quale il Brusca si sarebbe ferito ad un sopracciglio, perché il cannocchiale... No, questo è un altro. Ah, è un altro episodio. Allora, continui. Allora, a questo punto abbiamo provato questo fucile, l'hai provato tu mettendolo in ginocchio, di qua a là, a distanza poteva essere, in contata da Musi, che ha sfondato il vetro, alla miera quella di... Cancello. Eh? Del cancello. No, alla miera che ci ho messo dietro, io e il vetro blindato, e è andato a finire il proietto dentro il muro, se ti ricordi. In contata da Musi. Ha fatto angolo, ha andato fino all'arco, cancello di fronte. Non lo so dove è andato a finire. Ma lo ricordo benissimo. Successivamente, siamo andati nella proprietà di Peppa Grigento. Questo è nell'87. E in quel periodo si sono provati due fucili con i cornocchiali, che si sparava delle bombole, piene di gas. Un M16 e un Kalashnikov. Altre prove, noi. Altre prove, noi. Non ti ricordi? Era un M16. No, io sto dicendo due fucili con i cornocchiali. Ma io ti dico quali erano i fucili. M16 è un Kalashnikov, te lo ricordi? E l'abbiamo provato da Peppa Grigento. Perfetto. E fanno questi fucili. E un 308, tre euro. E basta. E queste sono le uniche volte che ti ho visto provare e abbiamo provato questi fucili. Lei conferme invece la presenza del Dimaggio in quella prova di sparo che avete fatto in una cava? Grigento. Perfetto. E fanno questi fucili. E un 308, tre euro. E basta. E queste sono le uniche volte che ti ho visto provare e abbiamo provato questi fucili. Lei conferme invece la presenza del Dimaggio in quella prova di sparo che avete fatto in una cava che è precedente, secondo il suo assunto, secondo il suo racconto, alla prova successiva di Contrada D'Ammussi. Sì, confermo. Sono stato chiaro. Sì, sì, confermo. Lei invece non ricorda, esclude categoricamente. Lei ha anche aggiunto un particolare, se non ricordo male, anzi ne sono certo, che nella prova di sparo che avete effettuato nella prima prova nella cava, credo che sparò lei, se non ricordo male, il vetro andò in frantumi. E che la seconda prova fu fatta su un vetro già frantumato. In quell'occasione sparò suo padre, credo. Su quello, le spiego subito. Come lei già poco fa ha detto, che Dimaggio negava questa cava, poi alla cava successivamente l'ha confermata, che l'abbia aperto io, rendanzo non ha importanza, comunque la cava c'è, ed è, credo che sia attualmente visibile, è una cava, è un, più che altro materiale di rifiuto, chiamiamo cava, però abbastanza grande, che si è fatto un bel buco in questa montagna, quindi si poteva andare a fare provare per attutire un po' i corpi. Questa cava è nella proprietà di suo pagina, ma il terreno è suo. Allora, a forza, davanti a questa corte, a forza esiste, poi lui in un momento di rabbia ha detto, sì, vero, la cava l'ha fatto Giovanni Brusco, con Randazzo. La cava effettivamente l'abbiamo adoperata inizialmente, io e Randazzo ai tempi dello scorrimento veloce, e poi nel tempo è stata adoperata da altri. Ma si è fatta una grande... Quindi si doveva provare questo vetro, e siamo andati, io, lui, Antonino Madonia, con questo telaio che lui aveva costruito, con questo vetro integro, a provarla. A provarla, e ci siamo andati con il Kalashinkov. Dopodiché, avendo finito questa prova, siamo tornati incontrati da Musi, Antonino Madonia se ne va, mio padre ed io, e lui, abbiamo preso questo vetro già frantumato, prende un fucile, abbiamo preso un fucile, un 308, e provo io, e mio padre pure, che spara, e mio padre che non aveva mai sparato con questo tipo di fucile grosso, spara, al momento in cui spara, sfonde il vetro, questa lamera che io non mi ricordo, che va a scardinare il pilastro del cancello, e credo che sia ancora là, ha preso l'altro cancello, e ha fatto un buco, guarda caso, neanche se è fatto apposta, nel cancello di questo vellino di fronte. Non so se è stato sostituito, comunque se è ancora là, si può andare a vedere. E ci siamo messi a ridere, per dire mai cosa stai combinando, siamo io, lui, mio padre, e il safato della Lazio, che era sempre presente, che era il custode del terreno. Quindi, non si ricorda di questa prova del vetro, col calaccio in cofria, signor Presidente, io cosa posso fare? Più di quanto ho detto... L'unica prova che abbiamo fatto noi, sul vetro brinnato, e poi sono andato a distruggere il vetro brinnato, che l'ho distrutto io, e non lo sopevo io, sono distrutto io il vetro brinnato, e lo possiamo pure andare a trovare, perché non lo potevo distruggere, e l'ho buttato in un posto, e l'ho coperto. Non lo sapevo, signor Presidente, questo io non lo sapevo, ma non lo so. L'unica prova che noi abbiamo fatta, l'abbiamo fatta a Gammuse, in presenza di tuo padre, Salvatore Lazio, e c'era qualche altra persona, che non mi ricorda. Signor Presidente, se Di Maggio dice di poter essere in condizione, di poter recuperare questo vetro, potete accertare, se in quel vetro, c'è stato un solo sparo, o più di spari. Altra cosa, il Di Maggio era consapevole delle finalità di queste prove? Signor Presidente, io come ho sempre dichiarato, non ricordo di averle detto, ma il nome, che dovevamo uccidere un magistrato, che dovevamo fare un'operazione grossa, sì. Lei cos'ha da dire al riguardo? Quando avete fatto queste prove, quella prova di cui lei ha il ricordo? No, completamente. Non sapeva qual era la finalità di questa? Sì, perché, a parte tutto, per andare a fare un certo tipo di lavoro, un omicidio, sono stati coinvolti come prime persone loro, perciò questa confidenza a me, non me la davano, mi davano la confidenza, al punto di dire, prepara questo vetro, prepara questa cosa, prepara quell'altra cosa. E poi mi pare di dare la confidenza di... Mi deve scusare, la confidenza me l'ha dato tuo padre, scusami, la confidenza di tuo padre me l'ha data, quando Totorrina l'aveva con te. Non sa perché l'aveva con te, Totorrina. Te l'ha data? Perché ti fregavi i soldi dalla cantina, va bene, va bene, ma te l'ha data? Però a quel punto, dice mio figlio Giovanni, così è malantrino, ma te l'ha data? Sì, dopo. Ah, ma te l'ha data? Dopo me l'ha data. Dice Giovanni è andato a mettere la macchina sotto la casa di Ginicio, e Nino Madonia ha schiacciato il telecomando. Però, questa confidenza tuo padre a me me l'ha data, prima di essere arrestato, nel 95, quando Totorrina se ne è dovuto andare da Muse, con tutta velocità, perché in quel periodo già c'era una certa, feducia e confronto di tuo padre e i miei confronti. All'inizio, tutta questa feducia, non c'era. Era un uomo d'onore semplice. E basta, Giovanni. Ma te l'ha data? E tu sai, a certi livelli, le confidenze si danno alle persone più strette. E chi eravamo in quel periodo? Ah, in quel periodo, tu a me la confidenza, non me l'hai data completamente. Non te l'ho data? Perché, e te l'ho detto, se sei un uomo, e devi dimostrare di essere un uomo, ah, cioè, scusa, mi devi scusare, scusa un attimo, io devo fare una prova di un vero blindato, devo fare una prova così delicata, cioè, non mi fido di nessuno, mi fido solo di te, o tu ti fidi di me. Ti dico di crearmi un telaio, ti dico di crearmi una cassetta di ferro, cioè, questa cassetta di ferro me la dovevo fare per metterci i soldini, non lo so, per far salvare il danaio. E devi scusare... Cioè, c'è questa confidenza che poi, quando succede un fatto, automaticamente si capisce di cosa si serviva. Ah, lo devo capire io. Lo devo capire io. Ma io ti sto dicendo che... Ma tu non mi hai detto, di cercare questa cosa per questa cosa. Tu non me l'hai detto. Il 101%, non posso dire che se gli ho fatto il nome dottor Chennice, però, l'unico che mi dava appoggio in quel momento storico, è che io preparavo quelli che erano i miei compiti, per commettere un fatto gravissimo, era Di Maggio Baldassare. Dicendo che in realtà non conserva il ricordo se gli fece il nome del magistrato... Il nome non li ho ricordo, che dovevo commettere... Ma gli parlò di un progetto micidiale nei confronti di un magistrato? Sì, dovevamo fare un fatto criminoso. E quando lui mi ha... Un fatto criminoso o un fatto criminoso nei confronti di un magistrato? No, no, un fatto importante di un magistrato, non mi ricordo il nome, non sono sicuro di avergli fatto il nome o meno. E lei non gliel'ha mai fatto il nome? Questo non ricordo riguarda tutta la fase preparatoria o successivamente glielo disse in qualche modo? No, per mia abitudine, gli posso dimostrare qualche altro fatto, dopo un fatto, qualsiasi fatto, io non ne parlavo più, cioè per me era come... e tomba, cioè non ne parlavo più di un fatto già passato, cioè ritornarci sopra o si doveva essere un... per un ricordo qualunque, però una volta fatto non ne parlavo più. Però, signor Presidente, lui, e che era a conoscenza di quello che io stavo facendo e di quello che si doveva fare, questo 100%. Senta, lei ha collocato questa prova del vetro blindato in che anno, in che periodo? Cinque, sei, sette giorni prima del... Cinque, sei, sette giorni prima, un bel periodo prima della sagge del dottor... Invece, quando poi riprendete il discorso con la cassetta e la bombola di cui parleremo, lei sul punto disse a Di Maggio qualcosa in ordine alle finalità di questa attività preparatoria o anche allora si mantenne sul vago? No, no, togliendo il fatto se gli ha fatto il nome o meno, tutto il resto, lui era a conoscenza di tutto. No, dico, tra la prova di sparo contro il vetro blindato, che se non ricordo male lei colloca in alcuni mesi prima della strage, poi quando riprendete il progetto perché cambiate le modalità esecutive, passano alcuni mesi. Lei riprende il discorso, i contatti con Di Maggio, quindi c'è il discorso della cassetta di cui poi parleremo e della bombola. Ecco, in relazione a questo incarico, lei che discorsi ebbe col Di Maggio, circa le finalità di questa richiesta di collaborazione tecnica, diciamo. Che si era rimesso in moto questo argomento e quindi si doveva preparare questa cassetta perché si doveva commettere questa attentata, abbiamo preparato l'esplosivo, abbiamo riempito io e lui la bombola di gas, c'è il gas, c'è il gas, c'è il gas. Fermiamoci un attimo, sulle finalità, lei cosa ha da dire? Ma sulle finalità? Anche in relazione a quello che accadrà dopo alcuni mesi della bombola? In relazione al seguito della bombola, io ho preparato la bombola. Nulla le fu detto? E nulla lei chiese? Mai, mai completamente. Perché non si doveva chiedere? E lui lo sa che non si può chiedere. Non si può chiedere. Ma non si chiede perché automaticamente ci stiamo preparando un fatto eclatante. Ma automaticamente che cosa? Io automaticamente posso entrare nel tuo cervello per sapere quello che stai preparando? Ma questa regola di cosa nostra, di questa particolare riservatezza che vi era anche tra due uomini d'onore, era una regola assolutamente interrogabile? o quando si trattava di due soggetti così legati come voi dal punto di vista operativo, qualche volta veniva derogata? Cioè, lei non ha mai chiesto a Di Maggio a che cosa deve servire questa cosa, dove dobbiamo andare? No, no, signor Presidente. Mai. Non mi sono permesso mai né a lui né a nessuno chiedere quello che si sta facendo. Uno, alla volte, pure, per l'unica cosa che si diceva, se accompagnava una persona o in qualche posto l'unica cosa che si diceva se hai bisogno di me hai? Dici no, ti saluto e me ne vado. C'è questa frase che tu la sai dire, giusto? Eh? Cioè, era normale che tu diceva aveva bisogno di me? Sì. Signor Presidente. Presidente, scusa, sono l'Avvocato di Conti. Ai fini della trascrizione, nella domanda introduttiva che lei ha posto, rivolgendosi a Di Maggio, ho detto, lei ha mai chiesto a Di Maggio? Al brusco. Sì, però poi il trascrittore potrebbe... Sì, forse ho sbagliato. Quindi, va bene, queste sono le vostre posizioni. Un altro passaggio cronologico riguarda... Scusa, signor Presidente, hai capito le parole che hai detto Di Maggio? Nel senso, tu hai bisogno di me, se c'è bisogno sono di una discussione, dopo di che me ne vado? Cioè, o dopo di che io me ne vado? Non so qual è il fine, il fine è mio. Scusa, tu come un mondo non lo sai, in qualsiasi posto... sto parlando con il Presidente, non sto parlando con te, scusa. Signor Presidente, siccome quando noi siamo arrivati da Gammicchia, quando siamo scesi dalla macchina, lui come di Costitudine, quando siamo scesi per, siamo arrivati che lui mi batteva l'astra, dopo di che scendo dalla macchina, c'è bisogno di me, gli ho detto, no, non c'è bisogno, te ne puoi andare. Cioè, nel senso che lui queste parole le diceva sempre quando c'era di bisogno o c'era qualche cosa. Non sono parole che mi sono inventato, che non ho disoabitudine. Si usavano con tutte le persone d'onore, pure chi andava fuori ai paesi e in un'altra famiglia, glielo dicevi sempre, a chiunque. Era una cosa che si usava, o no? Sì, scommi che ho detto quello che tu mi hai detto, l'ho detto in quest'aula. Che tu, nella tua coscienza, venire a dire a me che io ero al corrente di questa faccenda, è assurda. Perché tu a me, sì, mi dava la confidenza di che? Preparami questo, fammi quello, fammi quell'altro. Ti ho chiesto mai niente io? Ti ho chiesto mai niente? A che serve? A che non serve? Qualsiasi cosa. Non te l'ho chiesto mai. Maldù, ma nel momento in cui eravamo assieme per commettere una cosa, che motivo avevo o di chiedermi o di dirtelo? Quando puoi partecipare? Allora, scusa, un momento, qual è il motivo che tu me lo dovessi dire? Mi dovessi dare questa confidenza. Scusami, se quel giorno dicevo che avevo bisogno di te, veniva assieme a me, cioè c'era motivo di spiegarti che cosa avevamo fatto, che già avevamo lavorato per commetterci, la bomba, il vetro, cioè tutto quello che c'era da fare, se dicevo veni assieme a me ritenuto opportuno che il tuo lavoro finisse in quella situazione, però tu sapevi che io stavo commettendo un fatto grave. Si trattava di una strage che dovevo andare a commettere, dovevo partecipare, perché poi il resto tu non lo sai più, però tu sapevi che io dovevo partecipare a una strage, sapevi quello che io stavo andando a fare. Onestamente, come gli ho sempre detto, non mi ricordo di aver fatto il nome che Nici o meno, però di quello che io stavo facendo lui ne era a conoscere. Comunque di questo poi ne parleremo perché sul punto ci sono dei contrasti, quindi perché ci torneremo poi. Prendiamo atto delle sue dichiarazioni e del fatto che il Di Maggio continua a sostenere di non avere mai avuto consapevolezza di questo progetto e dell'obiettivo. Un altro passaggio riguarda la prova con la ricetrasmittente. Io sul punto vorrei che lei preliminarmente mi chiarisse un passaggio perché non mi è chiaro. Se, cioè, il Di Maggio fosse presente a questa prova perché lei parla di Madonia Antonino, parla di Lazio, parla di Gambino, parla di Gangi e poi a un certo punto c'è una domanda del Pubblico Ministero, lei ha detto che erano presenti Giuseppe Giacomo Gambino, Raffaele Gangi, lei risponde sì, poi la dottoressa Palma dice poi ci ha parlato di Nicolo Lazio, poi lei dice da Salvatore Lazio, Salvatore Lazio, Di Maggio, poi lei a un certo punto dice Di Maggio io e mio padre. Ecco, vorrei che lei mi chiarisse una volta per tutte se Di Maggio era presente o meno a questa prova della ricetrasmittente. Lei ha già risposto negativamente sul punto e ha detto di non avere mai partecipato? Ovviamente, io gli posso spiegare pure in modo io, risentimente, mi devi scusare, risentimente ai tuoi confronti, sì, un momento di rabbia può venire a chiunque e dire che ti ammazzasse, può venire, ma tu hai preso pure le misure per ammazzarmi, hai preso le misure, hai fatto venire a controllare la strada, a Bologna che io ero in un processo, che stavo testimoniando in un processo, sei venuto a prendere le misure e perciò tu ce l'hai con me e il motivo io non lo so o non lo voglio sapere. Cioè, ma quando io ho fatto venire a prendere le misure ti coi cosa eri? Ah? Quando io sono fatto venire, cioè il periodo dobbiamo dire, signor Presidente, il periodo era, 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 stavo accusando un sacco di persone, stavo accusando un sacco di persone, giustamente, non ho sbagliato, giustamente, aspetta, no aspetta, io ero un mafioso, sì, e cosa potevo, ti potevo battere le mani, ti portavo il caffè, non lo so, cosa volevi? No, ma siccome questo risentimento c'è stato da sempre, come, mi deve scusare? Presidente, non so cosa c'entra questo con il, c'entra, c'entra, perché c'entra? Perché tu mi vuoi accusare, mi vuoi coinvolgere, infatti, che io non so, perché se lì saprei, le avrei ammesse, prima, che tu, oggi mi vieni a contestare qua, io le avrei ammesse, prima, come tutte le mie dichiarazioni, ascolta, che io in sei mesi, mi deve scusare, dice Giovanni, in sei mesi, io ho dichiarato tutto, tranne, magari qualcuno, qualche dimenticanza c'è, possiamo avere tutto nel computer, ma è umano, però, ho dichiarato tutto, per filo e per sé, questo è il punto, e se io ero coinvolto, mi deve scusare, in qualsiasi strage, in qualsiasi cosa, io l'avrei ammesso, come, come abbiamo accompagnato, allora, la polvere da sparo, a Oshamartan, che ci aveva portato, a Vincenzo Milazzo. E questa è una bella calunia, bella e buona. Ah, questa è una calunia, bella e buona. dichiara una volta, quello che ha dichiarato, dichiara, cosa hai detto già, la presenza della Corte. Che cosa ho detto? Che cosa ho detto? Che cosa ho detto? Un giorno è venuto in officina, e mi ha detto, battimi la strada, fino a Partinico, vicino Partinico, Oshamartan, che è un ristorante. Sì, mi dica, non sentite? Non si sente l'audio. Ma la voce di tutti, o la voce di qualcuno in particolare? Di tutti, di tutti. Il moto della sua si sente benissimo. Vogliamo vedere se c'è qualche problema. Purtroppo queste interruzioni nei momenti dialettici, ma... Allora, stavamo parlando di questo... Stavo parlando di questa... Prima dell'attentato di Chinnici, io... Purtroppo come data, non mi posso... Parli più forte. Come data, non mi posso tanto orientare il periodo che è stato. Prima della data Chinnici? Cioè prima della strage Chinnici? Eh? Prima della strage Chinnici? No, dopo la strage Chinnici. Mi sembra si è stato nell'84, prima di arrestarti. Prima di arrestarti? Sì, giorni prima di arrestarti, mi sembra. Perfetto. In quel periodo, perché abbiamo portato la polvere da sparo a Vincenzo Milazzo, eh? Gliel'hai consegnata, tu hai alzato il cofano e hai detto e Vincenzo ti ha risposto, dici, questa se l'hai trovata? Dici, questa l'ho trovata. Polvere da sparo. e successivamente, se tu sei stato arrestato in quel periodo, eh? Comunque io ero con tuo padre a Dammose, che era all'orario di mangiare, stavamo quasi mangiando, è arrivata la notizia sul telegiornale e infatti tuo padre ha buttato un salto, dice Vincenzo ce l'ha fatta. Quale notizia, scusi? La notizia dell'attentato a Chinnici. Eh? A Carlo Palermo. A Carlo Palermo. Perciò, quella volta, sei venuto in officina, è venuto così, battimi questa strada, e fino a Ciamartano, arriva ogni bivio, arriva, ritorna, vede se c'è posto di bocca o no, e andiamo. E fino a Ciamartano l'ho accompagnato. Da questo è l'unico episodio al quale lei aveva già fatto riferimento quando dichiarò che l'unica volta in cui gli aveva battuto la strada in un trasporto di esplosivo, c'era una destinazione Partinico, io ricordo se ne parla di Partinico. Sì, sì. E lo stesso, parliamo dello stesso episodio. Sì, sì. Venendo poi alla, sempre ai fatti che ci riguardano più da vicino, lei conferma di avere dato in carico al Di Maggio di preparare una cassetta. Sì. Lei ha sempre negato questo fatto, ha solo parlato di una bombola. No, la cassetta io lo chiedo. Anche la cassetta? Sì, l'ho dichiarata la cassetta. Signor Presidente, allora forse ricordavo male. Dato l'audio. Sì. Solito problema? Sì, è vero. Anche lei aveva messo la cassetta. Sì, sì. Solito problema. Per quanto riguarda invece la bombola, vi è una notevole disparità di vedute, per così dire, di narrazione nel vostro racconto. Perché il Brusca sostiene di avere appunto dato in carico di preparare questa bombola che poi avreste riempito assieme. Mentre lei ha detto cosa diversa. lei ha parlato di un'attività di colflex. Lei avrebbe segato questa bombola, ha parlato che il Brusca le diede anche delle indicazioni come doveva essere preparato, parlò di un dado, parlò di un asse che veniva messa all'interno, mentre lei ha sempre negato di avere mai partecipato ad un'attività di riempimento sia del contenitore della scatola che di questa bombola. lei invece non ha mai fatto cenno a questa indicazione specifica di modalità esecutive con le quali doveva essere preparata la bombola, non ha mai parlato di un'attività di segare questa bombola, di mettere un dado, ha semplicemente parlato di uno svitamento del congegno che viene utilizzato per il passaggio del gas e di un riempimento con un imputo, attività che il Di Maggio ha decisamente negato di avere mai fatto. Ecco, io vorrei che sul punto mi muoveste delle contestazioni se ne avete. Chiarisco, io quello che racconta Di Maggio non ha niente che a vedere con la strage di Chinnici, che quella era avevo visto in possesso a Salvatore Rino una bombola formato segretè, cioè nel senso che era tagliata quasi a tre quarti con il cappello di sopra e all'interno avevo visto un asse saldato all'interno con una vite che poi andava a tenere fermo il coperchio. Mi posso fare pure un disegnino. Scusi, in che epoca siamo e ci chiarisca meglio questa bombola? Io questa bombola in queste condizioni l'ho vista nell'82, sono andato a ritirarla a Palermo in mano a Paolo Anselmo, cioè no Paolo Anselmo o Rosario Anselmo, zio di Francesco Paolo Anselmo. Salvatore Rino questa qua ci metteva lui documenti, pistole, c'era una specie di segrete. Allora, io avendo l'ho vista e ne volevo fare una simile. Solo questa volta in diverso c'era, invece di vedere il dato che uno si ci stava attendo si ricorgeva che quel dato non poteva funzionare. Quindi io volevo che si ci mettesse oltre all'asso invece del dato che si veniva completato con il solito rubinetto per essere invisibile. Parlando con lui dico se potevamo realizzare questo fatto. Quindi lui ha tagliato questa bomba e gli ha fatto questo però non è venuta per come io volevo. Tant'è vero che poi lui dicendomi mi dice questo è pronto e gli ho detto buttalo perché non mi piaceva e non serviva più. Che cosa diversa per la strage Chinnice? Non mi è chiaro questo passaggio. Quindi lei diede effettivamente incarico di preparare una bombola che fu segata ma non ha nulla a che vedere con la strage e in che epoca siamo? Ma siamo lì 82-83 signor Presidente cioè in quella storia. Ma prima della strage Chinnice? Ma sicuramente non può essere prima dopo però può essere che l'abbia detto prima non lo escludo però il fatto è vero chiaramente a che vedere c'è questa bombola con la strage Chinnice perché con la strage Chinnice le abbiamo tolto solo la valvola cioè per aprire e chiudere e poi con un butto piano piano l'abbiamo riempito cosa diversa di quella che poi e io sul punto non l'ho la bombola Lei non ne ha mai parlato di questo fatto? Ma non c'era motivo di parlarne perché per me era un'altra cosa non so se sono stato chiaro cioè per me era un fatto che non ne aveva neanche vedere Ma che cosa doveva servire questa bombola di cui lei ha parlato e che poi fu buttata? Un segretè nel senso che si apriva si nascondeva una cosa si chiudeva la potevamo mantenere tranquilla e nessuno una forpezza di polizia o chiunque vedeva vedeva una bombola di gas E quanto tempo prima della strage lei diede incarico Ma signor Presidente sono stato un anno sei mesi sette mesi cinque mesi non glielo so dire perché non ci sono andato attento era una cosa di normale amministrazione però il fatto esiste c'è senso che gli ho dato l'incarico di tagliare questa bombola che non è niente a che vedere io per essere sul punto la bombola di gas non l'ho adoperato solo in quell'occasione io la bombola di gas nelle stesse medesime condizioni l'ho adoperato in altri attentati se vuole li rilenco non so se sono stato chiaro e c'è pure qualche collaboratore di giustizia che ha visto un'altra simile nel senso che gli abbiamo tolto il rubinetto e l'abbiamo riempita c'è quella che parla lui è perfetto preciso ma non è niente a che vedere quella strage che dice se no significava cioè riempirla poi ci doveva mettere il dato come ci faceva il detonatore come ce l'esposeva e poi la pressione che serviva in quelle condizioni non poteva servire più quindi si tratta di un episodio diverso diverso da quello io lo confermo totale non mi ricordo il periodo preciso ma lei dopo quanto tempo disse al di maggio in relazione a questa bombola che poteva anche disfarsene perché insomma non era stata fatta bene non era utile per l'uso al quale lei aveva pensato ma sarei stato in officina un bel po' di tempo andato a punto parlando per dire buttala perché non mi piace non serve però non gli so dire quanto tempo prima perché non era un fatto che mi interessava particolarmente come sul punto non sono stato mai interrogato perché non non aveva niente a che fare con la strage questo particolare almeno per i miei ricordi non è un po' di tempo Grazie a tutti.